Si chiude un anno ancora difficile per il territorio aretino, la crisi morde, che che se ne dicano e che che comunque si guardi i numeri che sì è vero sono un po' meno negativi di quelli che ci aspettavamo però insomma sentendo un po' le voci in giro ancora la situazione è nera. La situazione rimane e permane ancora stagnante, ci sono dei parametri per la prima volta con segno positivo, quindi questo lascia ben sperare ma abbiamo un segno più che ha sostituito il segno meno accompagnato da uno zero virgola quindi è assolutamente insufficiente per poter parlare di ripresa soprattutto se consideriamo il fatto che dal 2008 ad oggi abbiamo perso quasi 9 punti di PIL quindi davvero tanto. Le prospettive per un futuro migliore sicuramente ci sono, il nostro è un territorio di export, lo abbiamo anche dimostrato con il Sole 24 Ore che appunto ha pubblicato i dati qualche giorno fa dove è emerso in maniera chiara che Arezzo è la prima città in Italia per export in rapporto al numero della popolazione. Ed è il quale pulsante della nostra economia che è il manifatturiero la quale in questi ultimi anni si aggiunge anche il mondo dell'agricoltura con delle eccellenze davvero importanti. Quello che continua a soffrire in maniera pesante è il dettaglio e il mondo del commercio che ha un turnover davvero pesante e complicato. Questa Camera di Commercio dovrà essere davvero l'agnello sacrificale di questa riforma o no? Ma guardi rispetto a come era partita questa legge delega sicuramente non sarà l'agnello sacrificale. Quello che succederà è che in Italia rimarranno da 105 Camere di Commercio, 60 Camere di Commercio, 5 in Toscana per cui noi dobbiamo andare ad aggregarci con Siena. Questo non necessariamente deve essere letto come un messaggio negativo. Andiamo a rappresentare un territorio sicuramente più vasto con oltre 620.000 abitanti, 83 comuni e soprattutto 83.000 imprese. Quindi un territorio che certamente potrà dire la sua negli organi che contano. E questo marchio invece è Ororezzo? Ma il marchio Ororezzo credo che non ci sia assolutamente nulla da dire. È un marchio di proprietà della Camera di Commercio che abbiamo dato ormai ad Arezzo Fiare da molti anni e che Arezzo Fiare ha contribuito a farlo crescere e a farlo conoscere in tutto il mondo. Non ce lo toglie nessuno? Ma non ce lo toglie nessuno perché la proprietà è nostra. E aggiungo le prospettive per il nostro polo feristico sono davvero interessanti e quindi credo, anzi sono certo, che nel corso dell'anno 2017 avremo novità interessanti.